ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture grazie mille a tutti quanti vi saluto con tanto affetto benvenuti a tutti quanti nuovi bentornate chi mi segue da tanto tempo grazie mille ricorda tutti quanti di iscriversi a questo canale attivare la campanellina cliccando su tutte allora leggete anche la descrizione del video perché trovate anche i tempi di ogni lettura che sceglierete trovate le informazioni per parlare con me per acquistare i miei accessori tutto quello che può interessarvi a voi poi guardate anche se volete quinta dimensione letture punto it perché è molto importante fa un lavoro insieme sul canale in formato video e sul sito informato proprio di lettura di blog quindi è molto importante questo lavoro in simbiosi allora vi faccio scegliere oggi due stese oggi parliamo proprio di galattici guide e messaggi proprio dal cielo a livello proprio galattico però è allora partiamo oggi vi faccio vedere i miei morbidissimi tappetini che sono creazioni mie che mi piacciono tanto allora anche queste sono in descrizione che interessa questo il tappetino dei messaggi divini del mio oracolo e questo dell'altro oracolo i prossimi eventi oracolo tappetino numero uno sarà per la prima lettura tappetino numero due sarà per la seconda lettura quindi uno e due queste sono le nostre letture di oggi tu scegli pure poi abbiamo il messaggino star seed proprio che ti leggo poi alla fine e mettiamo poi altri tipi di oracoli tu scegli intanto partiamo con la lettura numero uno mettiamo qua anzi qua tutto quanto mettiamo qui e poi ti tiro giù la carta allora intanto vediamo i galattici per la lettura numero uno chi ha scelto la numero uno il tappetino messaggi divini che cosa ce da dire cosa vogliono dire questa è la prima mettiamo anche un messaggio divino e vediamo proviamo a vedere quale guida viene qua adesso a lasciare un messaggio questa eccoci qua anima abbiamo fatto la nostra prima lettura aspettate che prendo tutto il messaggio star seed per la numero uno eccolo il messaggio tuo pronti partiamo partiamo intanto dai galattici vediamo per te lettura uno tappetino numero uno allora il numero 13 qui abbiamo qualcosa di egitto per la crescita di un essere è essenziale che sia lui a scoprire da sé che cosa lo rende grande che cosa presiede alla sua costruzione sottile poi in seguito fisica quindi qui c'è da capire anche un po' con l'autoanalisi per esempio allora intanto vi dico fate lo screenshot questo è anche un mandala se vogliamo chiamarlo no un codice di luce delle attivazioni di codici di luce che arrivano attraverso le geometrie anche sacre come queste simbologie che possono essere anche galattiche allora qua non so perché ma ci sono questi visi qua come vedete di cultura civiltà comunque antiche o potrebbero essere anche delle fattezze galattiche nessuno esclude niente qua però come vedete abbiamo anche dei colori predominanti questo verdino chiaro questo giallo arancio molto forte fuori assomiglia molto anche alla forma di un chakra abbiamo anche il triangolo in mezzo con poi un cerchio fatevi una meditazione su questa cosa la metto qui e provate a entrare con il terzo occhio proprio in questo codice in modo che possa portarvi proprio le informazioni di luce importanti adesso che devono arrivare a te vediamo la numero 13 ci l'approfondiamo e si chiama incontrare la propria grandezza per la crescita di un essere è essenziale che sia lui a scoprire da sé che cosa lo rende grande che cosa presiede alla sua costruzione sottile e poi in seguito quella fisica la libertà di scelta che a volte vi fa soffrire vi fa commettere quelli che chiamate errori è una delle porte che conducono a questa scoperta di voi stessi della vostra divinità quindi ecco passiamo anche attraverso fallimenti ed errori molto spesso ed è anche ciò che vi renderà forti e non possiamo né vogliamo interferire in questo processo alchemico ci sono passi che dovete compiere da soli perché è a questa condizione che essi si imprimeranno in voi una volta per tutte vi è chiesto di riconoscere chi siete e non cosa chiedete di essere o cosa gli altri pensano di voi è ora di uscire dalle apparenze che vi fanno sembrare quello che non siete e spezzare la maschera che vi dà l'illusione di un'identità qua beh è un bel monito cioè qui c'è proprio da c'è stata una bella cosa qua perché è molto forte questo ti dice proprio di liberarti da tutto quello che tu pensi che tu sei dal pensiero o da anche del pensiero altrui qua c'è da è un po' come rinascere no? andare molto in profondità a capire la propria vera essenza tutto quello che a volte come dicono loro noi chiamiamo errori in realtà fanno parte di una strada no? di un percorso personale che ci fa arrivare proprio la nostra divinità quindi qui la cosa importantissima che ti è arrivata è questa fondamentalmente che mi sento di risottolinearti ti è chiesto di riconoscere chi sei e non cosa credi di essere o cosa gli altri pensano di te è una frase molto forte uscire dalle apparenze che vi fanno sembrare quello che non siete quindi basta 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 qua c'è da ritornare proprio al sé chi ti ama ti segue non c'è niente da fare l'importante è che tu sia te stessa e tu sia te stesso questo è una cosa fondamentale nella vita perché non si può vivere la vita di un altro non si può vivere secondo come pensano gli altri noi dovremmo fare dovremmo dire cosa dovremmo essere che lavoro dovremmo fare con chi ci dobbiamo sposare ma insomma tutte queste cose qua ma perché qua c'è da fare come uno che esce da una gabbia boom e butta giù tutto questo è molto molto importante ricordati il codice per la meditazione andiamo avanti ancora e un ciclo è terminato 0 0 0 stai ricevendo messaggi del divino va bene è molto importante anche questo perché vedete anche un po' la questo sfondo così marroncino giallo che ci è arrivato anche sotto come colorazioni per te lettura 1 tappetino 1 eh stai ricevendo messaggi dal divino qui c'è da cambiare perché il ciclo è terminato semmai non l'avessi ancora capito qui c'è da iniziare una nuova fase una nuova te un nuovo te ripartire a zerare i fratelli galattici dicono che l'energia comunque è giusta adesso per fare queste scelte importanti ed è sottolineato dal fatto proprio di questo ciclo sai proprio i famosi errori che dicevano prima questi errori verso cui dobbiamo passare è proprio per questo per questo ciclo ora basta c'è da capire un po' dove vogliamo andare e essere soprattutto noi stessi vediamo adesso quale guida vuol venire qua lulu qui abbiamo proprio la fatina qui abbiamo andromeda se qualcuno ha fatto la lettura starseed con me e ha la certezza proprio che c'è una delle sue provenenze perché ricordo non abbiamo solo una insomma può trovare anche un'ulteriore conferma adesso leggiamo proprio lulu notate ovviamente sempre anche simbologie codici, colori, tutto quanto è comunque quello che eccola qua vedete andromeda sta qui leggete bene allora chi ha fatto una lettura privata legga bene le caratteristiche molto importanti di andromeda e chi sono gli starseed proprio andromediani faremo anche dei video perché me lo state chiedendo farò dei video particolarmente dedicati con informazioni che vengono da insomma da studiosi affidabili da scrittori affidabili da persone che canalizzano in modo ufficiale e affidabile perché ho visto di tutto di più che cosa gira è un pianto veramente tutti canalizzano è un terrore spero non incappiate in quei post in quelle cose mi raccomando perché adesso c'è veramente di tutto di più sta proprio scendo fuori tutto il marcio finché devo uscire pazienza ma attenzione comunque attenzione allora partiamo vediamo Lulu allora aspettate perché sono tutte in inglese ve le traduco sono Lulu sono così eccitata di incontrarti di conoscerti di essere attorno a te e vedere il tuo mondo sono giovane ma anche vecchia in andromeda siamo così differenti da te ma anche se siamo fratelli e sorelle lo stesso la nostra galassia è come un po' una gemella della tua siamo nati nello stesso tempo comunque noi ci siamo evoluti in un differente modo da te perché noi ci evolviamo proprio in un modo diverso potrei essere anche come fossi una tua sorella più anziana e tu il mio fratello più giovane o mia sorella più giovane eventualmente saremo sempre uniti in uno lo vedi il simbolo nel mio terzo occhio è un simbolo proprio di bilanciamento noi ci sentiamo le persone della via Lattea per esempio hanno bisogno di assistere e ti assisteranno in questo sentirti in pace nel farti avere questi sentimenti di pace tramite proprio questo questo codice capiamo anche le oscurità la negatività che ti possono trattenere ancora forse in cose un pochino più oscure ma noi sappiamo che hai un percorso da fare lì e saremo qui a tua disposizione se tu ci chiami quindi qua proprio da Andromeda allora continuiamo noi ti possiamo aiutare siamo le fate di Andromeda e veniamo in molti modi in molte forme allora noi giochiamo dice qua è un po' un po' cari ma si vede guardate che non vi ispira una cosa proprio di simpatia noi giochiamo cioè qui dice attenzione perché noi ti guariamo giocando cioè qui non è che c'è da fare quella cosa sontuosa pomposa o chissà che quale cosa noi lo facciamo giocando adesso ti spiego lettura 1 cosa dice perché ci piace e amiamo fare tutto questo quindi ti diciamo danza con me muoviti suona balla stai contenta stai felice vogliamo che tu ti rinvigorisca tu ritrovi la gioia del fare queste cose e vogliamo che questa gioia si espanda intorno al tuo ambiente quindi per dire se tu sei in una stanza canti suoni balli ti muovi fai cose che ti piacciono questo ambiente si permea di questa energia positiva chiamami lulu e io posso essere attorno a te immettendo nel tuo campo aurico nel tuo campo energetico proprio molti brillanti molti brillanti cioè è come dire ti riempie di luce capito come cioè questa luce brillante piena come fossero brillantini per esempio per noi in italiano no dei brillantini quelle cose tipo sparkle e posso infondere proprio in tutta la tua casa questa luce questa brillantezza chiamami lulu anche la notte dice qua lulu anche la notte fata di andromeda non voglio sentirmi sola e non lo sarò io ti chiamo e so che tu mi assisterai con le fate di andromeda e dice che qua saranno tutte attorno a te quando lo farai anche la notte cosa vuole ti dice ancora qua il tuo bambino interiore oggi compragli un giocattolo colora qualche geometria sacra qualche mandala di geometria sacra fai città di luce con tutti i cristalli crea crea un castello con la pasta per esempio vedi che qui parla di gioco creatività tipo il das per esempio come si chiama quelle persone che creano create delle città di luce poi le colorate poi le fate oppure anche con i cristalli qui dice che c'è un posto dentro di te che lo sa che tu non vieni da qui c'è un qualcosa in te in qualche parte di te tu lo sai dice lei che non sei di qui io vedo ti dice la tua luce stellare questa famosa luce che dicevo prima brillantini no le sparkle che è dentro di te io la vedo ti dice qua allora qui ci dice che il bambino interiore qui devi nutrire molto insomma se ancora non sei capito il discorso gioco bambino interiore divertimento e creatività non mettergli i confini ascoltalo ecco così si conclude quindi è molto bello questo messaggio un messaggio di gioco di vicinanza di prendere le cose anche senza drammi dar da mangiare a questo bambino interiore chiamate le fate comunque di andromeda durante la notte perché c'è un'assistenza particolare in questo momento non è detto che per forza ci deve essere una provenienza da andromeda in te però ci sarà un'alta alta alta corrispondenza sicuramente se ci è venuto però potrebbe essere anche un aiuto in questo momento come un po' per gli esseri di luce e gli angeli no? anche le guide galattiche si interscambiano a volte magari in questo momento hai bisogno di questo tipo di energie quindi sei richiamata o richiamato da questa costellazione perché magari loro hanno un tipo di getto di energia più di questo tipo che è quella che ti può servire adesso oppure ci indica anche una provenienza una delle tue provenienze da andromeda vediamo ancora per chiudere un altro messaggio che ti deve arrivare e c'è la riflessione devi contemplare vedere tutti gli aspetti di te stessa o te stesso attraverso la riflessione di questi come uno specchio del tuo sé superiore quindi è come se ti dice il tuo sé superiore ti farà notare questa cosa quindi guarda tutti gli aspetti del riflesso ma guarda a questo punto facciamo anche questo esercizio davanti a uno specchio di vedere proprio attraverso il riflesso dello specchio noi ci guardiamo e vediamo attraverso il riflesso dello specchio magari delle luci delle cose che potrebbero attirare la nostra attenzione ci potrebbe venire fuori di vedere un colore un aspetto del nostro sé superiore che magari non abbiamo contemplato in quel momento quindi potrebbero essere tante però qua c'è proprio il riflesso un riflesso proprio di qualcosa proprio sulla riflessione guardare tutti gli aspetti di te stessa o te stesso come uno che si guarda allo specchio uno proprio che si osserva però quando tu ti osservi cerca di non osservare solo diciamo il viso fisico ma cercare di percepire proprio il sé superiore va bene? lettura 1 questi erano messaggi per te riguardati eventualmente le cose le letture riascoltati i messaggi consigli dei galattici delle guide questo era per te lettura 1 se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale e io proseguo eccoci qua che ha scelto la lettura numero 2 il tappetino dei prossimi eventi oracolo mettiamo qua tutto quello che serve per identificare la lettura e partiamo intanto con i fratelli galattici vediamo qual è il messaggio che ci vogliono dare perché ha scelto il tappetino numero 2 questo è il messaggio vediamo anche un messaggio divino per la lettura numero 2 vediamo le guide quale guida quale costellazione chi sa già la provenienza starseed ascolti bene ma anche chi non la sa che potrebbe essere un dettaglio importante di qualche collegamento stellare la lettura numero 2 e il messaggino starseed vediamo che leggiamo dopo per la lettura numero 2 questa è voluta proprio rimanere sospesa partiamo tappetino numero 2 lettura numero 2 partiamo intanto con i galattici vediamo il codice di luce intanto che c'è per te partiamo numero 26 abbiamo anche qui un violetto vedete rosa violetto smettetela di dissertare sulla vita vivetela in tutta la sua pienezza e ogni azione sia uno scoppio di gioia il bozzolo di cui vi siete circondati a modo di protezione non ha più ragione d'essere fate lo screenshot questo si può meditare qui sopra si può meditare riportarselo poi nel terzo occhio cercare di rivederlo cercare di percepire la luce l'energia che arriva proprio dal codice si chiama pienezza siete in un momento importante quello di aprire le ali e vivere pienamente la vostra vita è importante lasciare andare le vecchie paure della vostra infanzia per immergersi in un universo che vi apre le braccia come un salto nel vuoto questi momenti richiedono una fiducia assoluta in ciò che la vita vi propone qua è il famoso salto della fede si chiama energia qui c'è da buttarsi qua c'è da aprire le ali qua c'è da andare e che ogni cosa che voi fate sia uno scoppio di gioia basta con questo bozzolo con questa protezione non serve dicono quei galattici basta non ti serve più non ha più ragion d'essere questo bozzolo va tolto e finalmente apriamo le ali come fa la farfalla proprio il processo del bruco fino a diventare la farfalla aprire le ali vivere pienamente la vostra vita basta con queste paure lasciare andare le paure soprattutto quelle per molti all'ascolto che mi stanno ascoltando dell'infanzia questo salto nel voto fiducia assoluta come dico sempre fede assoluta fiducia assoluta su queste cose le risposte non ce le può dare nessuno ci vuole e sarà premiata l'assoluta fede e fiducia questo ve lo posso assicurare più siete in fede assoluta e fiducia fare e lasciare andare fare e lasciare andare come dico spesso nei miei video anche per quanto riguarda le recitazioni le meditazioni i decreti i codici sacri non c'è da star lì ad aspettare si fa e si lascia andare ci si dedica ad altro non dobbiamo fissarci sul risultato ma quando accade ma cos'è qua è passato tempo basta fare e lasciare andare quello sarà premiato fai uno screenshot di questo stupendo codice di luce per te e fai una meditazione vedi se hai dei ricordi prova poi a chiudere gli occhi no è un esercizio anche per il terzo occhio di fissare per qualche istante fin quanto ti senti la necessità di fissarlo e poi riportarlo ad occhi chiusi nel tuo terzo occhio cioè significa rivedere quell'immagine che avevi visto prima ad occhi aperti rivederla attraverso il tuo terzo occhio e poi vedere cosa accade rimani in contemplazione con la respirazione sempre diaframmatica e vedi che cosa succede andiamo avanti un messaggio divino oracolo chiedici di aiutarti anche qua abbiamo il colore lo stesso senza il tuo permesso non possiamo intervenire 441 411 ti do il permesso di aiutarmi è proprio la richiesta da fare che dico spesso in questo canale non basta una sola volta ogni tanto c'è da rinnovare l'intenzione no è un po' come il lo sto facendo bene di crayon se molti non lo fanno me lo metto magari nelle schede consigliate qua sulla i in alto a destra del video ve lo metto diretto è molto importante anche quello lì lo sto facendo bene mi sta arrivando molto molto questo da fare per la lettura numero 2 cioè di farsi spostare se eventualmente c'è qualcosa che non va in questo momento se c'è qualcosa che sta ostacolando in questo momento se siamo sulla strada sbagliata chiediamo quindi diamo il permesso perché per la legge assoluta del libero arbitrio non possono spostarci dal nostro percorso ok è molto importante questo dare il permesso significa ti do il permesso proprio di mio libero arbitrio sto scegliendo di dirti questo va bene di spostarmi sono disposta disposto pronta pronto spostami pure questo è molto importante sia proprio questo qui ti do il permesso di aiutarmi ma anche la formula che troverete nel video di Kryon lo sto facendo bene proseguiamo andiamo avanti vediamo chi arriva dalle galassie Lulu incredibile oggi è una cosa incredibile da Andromeda di nuovo non c'è bisogno che ve lo leggo perché l'ho spiegato poco fa allora praticamente abbiamo qui una provenienza di Andromeda una fata comunque di Andromeda che lavora in contemporanea proprio con con noi comunque anche con altri gruppi sempre come lei di questi esseri di luce un po' fatati diciamo come lei questo è una simbologia molto importante che tu devi comunque contemplare guardare adesso lo riprendo comunque le parole esatte non le ricordo e comunque ti dice di badare molto al tuo bambino interiore quindi giocare fare cose creatività con la pasta con i colori con le costruzioni chiamare di notte le fate comunque di Andromeda e loro saranno subito vicino a te danza con me ti dice gioca sii felice sii contenta vogliamo che tu risvegli la gioia di tutto quello anche che ti circonda noi ti manderemo proprio dei come dire una polvere di stelle praticamente come fosse dei brillantini di luce che ti manderemo proprio noi e permeeremo anche tutta la stanza con queste cose sono molto felice di conoscerti di incontrarti di essere accanto a te nel tuo mondo siamo anche simili dice lei io sono giovane ma sono anche vecchia siamo tutti in un certo modo fratelli e sorelle la nostra galasse è come ci dice lei un po' fosse la gemella proprio del tuo pianeta qui dice anche che devi trovare un posto dentro di te che tu sai che ti dirà questo posto dentro di te quindi una riflessione una meditazione che devi fare c'è un posto dentro di te che sa che tu non provieni non sei di qui quindi qua comunque è un messaggio molto forte da questo essere di andromeda che ci dice proprio che c'è una provenienza galattica qua probabilmente andromeda è una dei tuoi passaggi che hai fatto chi ha fatto le letture stellari con me quelle private lo sa che ce ne sono diverse da quella più antica a quella un pochino più recente dove ci portiamo anche le caratteristiche di queste nostre vite su altre galassie molto spesso le riportiamo qua noi sulla terra perciò qua c'è un'indicazione anche se non hai fatto la lettura starseed in privato però c'è un'indicazione di una delle tue provenienze non so quanto può essere antica o più recente per te però ci potrebbe essere un collegamento con i semistellari di andromeda potresti essere proprio questo vedete che gioia qua c'è molta giocosità questo essere galattico comunque di andromeda ti sta dicendo giochiamo diamo da mangiare a questo bambino interiore facciamo facciamo proprio le cose belle che ci divertono vedete questa è la galassia di andromeda adesso vabbè è tutta rosa comunque è così basta che andate anche su wikipedia o insomma su internet si trovano delle bellissime immagini anche ad alta risoluzione se vi piacciono perché quella bassa risoluzione si vede niente invece ad alta risoluzione rende molto bene ci sono foto fantastiche proprio la fata di andromeda che bellezza che è poi oggi proprio molto forte quindi l'influsso andromedano qua e vabbè allora andiamo questo riguarda anche me eh allora vediamo adesso il messaggio starseed qual è ascensione ecco siamo proprio a casa qui eh allora la tua anima si sta evolvendo ad un più alto stato di coscienza e sei pronta per questo sei pronto per questo guardate che roba qua guardate che roba ti sta dicendo che sei proprio nel cammino dell'ascensione se qualcuno aveva dubbi togliamoli subito di mezzo dice proprio che il tuo stato di coscienza sta diventando più alto sta andando più su questo è grazie sicuramente comunque a recitazioni o cose o meditazioni che fate lavori con i maestri eccetera eccetera ti sta evolvendo hai un'anima che sta in evoluzione e ti dice pure che sei pronto che sei pronta eh quindi basta qua siamo tutti pronti qui c'è da volare andare dare finalmente ancora una volta il permesso anche di un altro sprint finale che ti può portare veramente poi a un alto stato di coscienza in cui proprio poi voli proprio davvero eh che gli l'aiuto anche durante la notte e sarai circondata o circondato da queste fate compresa Lulu di Andromeda che con questa polvere di stelle la famosa Stardust no che molto spesso ho messo anche nei video dei galattici dei pleiadiani anche chiamata la Stardust proprio la polvere di stelle famosi brillantini no questa polvere i nostri glitter chiamiamoli così no è vista proprio come una luce la luce stellare la polvere delle stelle ascensione proprio bozzolo via il bozzolo vogliamo diamo proprio il permesso ancora eh di aprirci ancora di più di essere sempre più allineati bellissima lettura la numero due grazie agli esseri di Andromeda presenti oggi perché ce ne sono diversi eh bellissimo tutta questa combinazione colori cose che stanno arrivando cioè su tutte queste carte che esce sempre insomma la stessa carta è è un segnale molto molto forte vedete no che ve le faccio davanti agli occhi quindi comunque qui è sempre tutto vero perché anche perché non ho ragione perché cosa non dovrei dire quello che viene no allora care anime lettura 2 bellissima grazie mille di essere stata o stato qui con me grazie davvero lasciami un like al video se ti è piaciuto iscriviti al canale io rinnovo tutti quanti comunque sempre questo invito ad iscriversi a mettere like a far crescere questo canale leggete anche la descrizione del video comunque perché trovate sempre tutte le informazioni per parlare con me percorsi privati letture particolari c'è anche la lettura delle vite passate la lettura star seed tante cose particolari che potete fare i pacchetti per chi vuole fare un percorso mensile con me di crescita evoluzione spiritualità meritazione consigli che vi do io in base alla vostra energia perché sapete che quando vi sento al telefono ho subito il collegamento proprio canalizzato lo sento proprio già dalla vostra voce è una cosa mia particolare anime grazie mille grazie mille veramente a tutti fatevi un giro anche sul sito web e vi aspetto presto qua su quinta dimensione letture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti e grazie